Si è tenuto a Roma un importante media talk con esperti in diabetologia, nefrologia e cardiologia che hanno affrontato le pericolose interconnessioni tra diabete, cuore e reni. Il diabete infatti non solo compromette il controllo glicemico, ma aumenta anche notevolmente il rischio di malattie cardiovascolari e renali. Circa il 40% dei pazienti sviluppa una malattia renale cronica, spesso senza esserne consapevole e il rischio di infarto e scompenso cardiaco può aumentare di oltre il doppio. L'approccio olistico, già al centro del dibattito scientifico internazionale e supportato dalla linea guida 2024 dell'European Society of Cardiology per l'ipertensione, è stato discusso nel dettaglio al Media Talk Diabete, cuore e reni, le connessioni pericolose, i rischi noti e meno noti nel circuito cardionefro-metabolico promosso da Beringen, Ingerheim e Lilly. Gli esperti hanno ribadito che una cura efficace del diabete non può limitarsi al controllo dell'eglicemia, ma deve necessariamente mirare a proteggere cuori e reni dai danni correlati alla malattia. Parliamo di diabete, delle complicanze croniche del diabete. Il diabete melido può essere una malattia molto seria, grave, se non viene prevenuta e se non viene curata in maniere più opportune. Voglio ricordare che il diabete rappresenta la principale causa, soprattutto nei paesi occidentali di cecità, la sua complicanza retinica, l'insufficienza renale terminale, cioè insufficienza renale che richiede il trattamento renale sostitutivo, sia esso dialitico, sia di trapianto di rene. Il diabete rappresenta anche la causa principale di amputazioni non traumatiche degli arti inferiori per la vasculopatia, neuropatia ad essa associata. Ricordo ancora che il diabete rappresenta un fattore di rischio molto potente di eventi cardiovascolari. Oltre alla metà, oltre il 50% delle persone con diabete muoiono a causa di eventi cardiovascolari, intendo ictus cerebri, infarto del miocardio. Quindi se non si interviene precocemente, come dicevo, e se non si attuano dei meccanismi di prevenzione, queste sono le conseguenze che un diabete non curato a maniera più opportuna può avere. Professore, quindi oggi chiudiamo nelle nostre menti questo importante circuito diabete-cuore-reni. Vogliamo nel salutarci, trasferire ai telespettatori quanto importante sia. Oggi si parla appunto di complicanza cardio-renale, proprio perché esiste una connessione, direi una interconnessione tra cuore e rene, particolarmente vera, ma non solo nelle persone con diabete. Intendo dire che se il cuore soffre, ne risente anche il rene e viceversa. I pazienti con danno renale hanno un rischio di sviluppare eventi cardiovascolari molto elevato. Quindi esiste questa interconnessione che si basa su meccanismi fisiopatologici abbastanza fini, solo in parte conosciuti, ma ci sono numerose e robuste evidenze scientifiche che supportano appunto quello che ho appena detto. È necessario quindi individuare molto precocemente la comparsa di complicanza renale, ad esempio, attraverso dei programmi di screening che vengono promosse sul territorio, proprio perché una individuazione precoce permette un precoce intervento e il precoce intervento è quello che, diciamo, consente di ridurre l'impatto sia dell'evoluzione del danno renale, ma anche la ripercussione sul cuore e sugli eventi cardiovascolari. Lei consideri che una persona che soffre di rene ha un rischio molto elevato, come dicevo prima, di sviluppare l'evento cardiovascolare? Ed infatti la progressione verso l'insufficienza renale terminale a volte è inferiore rispetto a questo meccanismo cosiddetto competitivo del danno cardiovascolare. Intendo dire che molte persone con diabete non arrivano all'insufficienza renale terminale pur essendo affetti da danno renale perché nel frattempo muoiono per eventi cardiovascolari. E oggi noi abbiamo la possibilità di intervenire. Dicevo, programmi di screening sicuramente, ma abbiamo possibilità anche in termini di intervento farmacologico, non solo, ma direi anche organizzativo. E mi spiego. La cura del diabete in Italia è assicurata da centinaia di centri di diabetologia sparsi su tutto il territorio nazionale. Questa è una peculiarità e direi una risorsa molto importante che l'Italia ha e che non è presente in altre nazioni, anche avanzata da un punto di vista sociale e sanitario. Quindi noi la prima cosa dobbiamo difendere questo tipo di organizzazione perché questa organizzazione è in grado di prendere in carico persone affette di diabete, intervenire. E ci sono delle evidenze prodotte anche da ricercatori italiani che documentano come la persona con diabete che è seguita presso i centri di diabetologia ha un'aspettativa di vita migliore, più lunga rispetto a chi invece non è seguito nei centri di diabetologia. Quindi il primo punto è l'organizzazione del servizio sanitario in questo settore che, ripeto, in Italia è, posso dire, un fiore all'occhiello. L'altro versante invece sono i cosiddetti nuovi farmaci, i farmaci innovativi. Sono nuove classi di farmaci, tra questi voglio menzionare gli inibitori dell'SGLT2, che con un meccanismo peculiare, essenzialmente a livello renale, sono in grado di non solo ridurre la glicemia, che è l'obiettivo principale ovviamente nella cura del diabete, perché il primo obiettivo deve essere appunto quello di prevenire le complicanze microvascolari, cioè retina, nervi, rene, che si associano all'iperglicemia. Ma non solo, ripeto, sono in grado di ridurre la glicemia, quanto sono in grado anche di ridurre la comparsa di eventi, di prevenire la comparsa di eventi. Quindi oggi posso dire che noi siamo in grado di non solo allungare la vita dei nostri pazienti, che è un obiettivo molto, credo, molto importante, ma anche di conferire una migliore qualità di vita ai nostri pazienti. Gli specialisti hanno sottolineato l'importanza di una gestione integrata e multidisciplinare per prevenire gravi complicanze e proteggere gli organi bersaglio. C'è un rapporto bionivoco tra cuore e rene, nel senso che un paziente cardiopatico, un paziente di perteso, che sono la stragrande maggioranza dei pazienti da di sopra i 55 anni, può sviluppare insufficienza renale. Il 40%, il 50% sviluppa un po' di insufficienza renale. Ma c'è anche da dire che il paziente che ha l'insufficienza renale ha un peggioramento della prognosi cardiovascolare. La Società Americana di Cardiologia, 30 anni fa, ha riconosciuto la malattia renale cronica come fattore indipendente di rischio di eventi cardiovascolari, fatali e non fatali. Quindi c'è una stretta connessione tra i due organi. Che consigli possiamo dare a chi è a casa a livello di esami, di prevenzione, di stichi di vita? Le rispondo con quello che stiamo facendo. Le rispondo con due cose. La Società Italiana e io in prima persona mi sono abbattuto per avere un PDTA nazionale sulla malattia renale che si chiama PPDTA. La prima parola è prevenzione. La prima parola. Quindi è PPDTA che adesso è alla firma del ministro Schillaci, poi verrà portato alla conferenza Stato-Regione e scenderà in tutte le regioni. Questa PDTA chiarirà quali sono gli esami, come interfacciarsi ed è destinato soprattutto alla medicina generale. I medici generali sono il medico di famiglia, a me piace parlare di medico di famiglia, è il primo filtro che vede tutti i pazienti. L'altra cosa che stiamo facendo invece abbiamo portato il 14 marzo di quest'anno, abbiamo depositato a Montecitorio un disegno di legge sullo screening e riferimento guidato alle nefrologie da fare proprio dalla medicina generale. Primo firmatario è l'onorevole Moulet, il vicepresidente della Camera. Quindi tutti e due i documenti fondamentalmente che cosa dicono? Dicono che noi dobbiamo superare il principale bonus della malattia renale. La malattia renale è una malattia sintomatica, non solo nelle prime fasi, ma anche nelle fasi avanzate, perché il paziente non capisce di averlo. Quindi il paziente iperteso, diabetico, il paziente obeso, il paziente cardiopatico, sono tutti i pazienti che devono essere screenati. Lo screening, bassissimo costo. Esame dell'urina e creatinemia. Totale 2 euro, 2,50 euro. Fatto questo, noi nel PDTA e nel disegno di legge, nei documenti attuativi che stiamo stilando per il disegno di legge, perché poi quelli sono quelli più importanti, detteremo anche quali sono le regole di ingaggio. Non è che noi possiamo avere tutti i pazienti. Noi dobbiamo vedere quali sono i pazienti che vanno indirizzati alle nefrologie, perché il vecchietto che ha 1,4 di creatinine, ma non ha proteinuria, non ha anemia, è un paziente che può seguire il medico di medicina generale, il paziente con la cisti isolata, non è un problema. Quindi noi dobbiamo identificare i pazienti ad alto rischio, quelli li dobbiamo condividere, non prendere, perché è una brutta parola, condividere con la medicina generale, e mi auguro anche con gli specialisti, come i cardiologi, i diabetologi, sono un po' più resti, in maniera tale che favoriamo l'effetto principale, che è quello di mettere in remissione la malattia. Oggi la possiamo mettere in remissione, questa è l'unica buona notizia quando si parla di malattia generale cronica. Quella malattia è una malattia diffusa, ad alto rischio, ad alto costo, ma oggi è una malattia che noi possiamo trattare, con l'aspetto nutrizionale, ma anche con i farmaci, non solo gli acinibitori o gli antagonisti dell'angiotensina, ma abbiamo le glifozine, adesso abbiamo anche il finerenone, domani ci sarà il GLP-1, ci sta gli anti-endotelina, quindi è oggi davvero la gestione di questa malattia che possiamo dire è la principale malattia cronico-degenerativa che abbiamo al mondo, lo dicono i numeri, noi abbiamo 20 volte i pazienti dell'oncologia, abbiamo 7 volte i pazienti della neurologia, gli ictati, eccetera, abbiamo il doppio dei pazienti diabetici, abbiamo il doppio dei pazienti cardiopatici, quindi noi possiamo davvero mettere oggi in remissione la malattia, tant'è vero che c'è stato un consensus pubblicato recentemente ad aprile di tutte le società scientifiche, quindi quella americana, l'internazionale, l'europea, le asiatiche, in cui a gran voce abbiamo richiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità di aggiungere alle quattro classiche malattie non communicable disease, malattie cronico-degenerative, diabete, ipertensione, malattie polmonari croniche, aggiungere anche la malattia renale cronica, ovviamente questo sarebbe per noi una grande vittoria, ma penso che ci arriveremo perché finalmente viene riconosciuta questa malattia il giusto valore e anche il giusto valore della prevenzione, sia primaria che secondaria, che dobbiamo mettere in atto per abbattere questi numeri. L'impegno della nostra azienda per i pazienti che sono affetti da una malattia cardiovascolare, nefrologica o metabolica, è quella di lavorare fianco a fianco con loro per migliorare intanto il controllo delle conseguenze di queste malattie, ma anche per permettere loro di recuperare e poi mantenere una buona qualità di vita. Questo è l'impegno e per farlo dobbiamo partire dalla persona nel suo complesso, quindi non dalla singola patologia. Il nostro portfoglio di farmaci innovativi in pipeline va esattamente in questa direzione. Lo abbiamo fatto in passato, questo ci ha portato ad esempio in pagrifozina a disposizione dei pazienti che hanno diabete, che hanno uno scompenso cardiaco e che hanno un'insufficienza renale cronica, lo facciamo con i prodotti che abbiamo nella nostra pipeline, quindi il nostro impegno è un impegno assolutamente a lungo termine.